C'è un mondo in cui il tempo, così come noi lo conosciamo, è immobile, in cui ogni istante è un universo in se stesso. E se l'esistenza di questo mondo, con il suo segreto dell'eterna giovinezza fosse minacciata, se proprio coloro cui è stata affidata la sua difesa, tra sei ore ogni cosa vivente di questo sistema sarà già morta, poi in agonia, fossero decisi a distruggerlo. Chi siamo noi per determinare il corso dell'evoluzione per queste persone? Agisco per ordine del Consiglio della Federazione. È l'unica speranza per la sua sopravvivenza. Se una corte marziale è l'unico modo per informare la Federazione di quanto sta accadendo qui, ben becca. Fossero un comandante e il suo equipaggio, pronti a commettere un tradimento. Pronti a far fuoco? Andate a una squadra e prendeteli con la forza. Portiamo via questa gente! La nave della Federazione è disabilitata. Eliminateli. Comandante, fuoco! Star Trek. L'insurrezione.